Franco Campana della compagnia dell'oratorio di Casnego, sabato avete la prima di un musical molto interessante che ha coinvolto addirittura più di un'ottantina di persone di Casnego, ci vuole spiegare di che cosa si tratta? Sì, dunque, un musical sulla figura di Don Bosco, un musical realizzato appunto con il supporto di circa 80 persone che fanno parte appunto di tutto il cast, divisi tra ballerini, fra recitato, fra coro e fra vari addetti diciamo un po' alle varie mansioni. È un musical che stiamo programmando da circa sette mesi, è un musical fatto per i ragazzi e con molti ragazzi, difatti il 90% delle persone che ne partecipano sono tutti alla prima esperienza, però per questo non ho lavorato molto bene, la cosa è uscita veramente bene. La cosa più bella, dicevamo, è che l'obiettivo di riproporre la figura di Don Giovanni Bosco, quindi dell'aggregazione, è poi stato ripercorso anche da voi coinvolgendo tutte queste persone e soprattutto i ragazzi che frequentano l'oratorio. Molti di loro infatti sono molto giovani. Sì, si va praticamente dai più piccoli di sette anni fino a gente anche di 50-55 anni. Ecco, il bello è questa aggregazione e questa unione di sforzi proprio su una fascia di età così ampia. L'opera è un operaio di Dio che riprende appunto un musical già scritto che voi avete rielaborato. Quali sono i temi trattati? Ma indubbiamente il tema è fondamentale e viene riproposto l'oratorio nella sua figura importante che è all'interno di una comunità. Abbiamo scelto questo musical qua di Biagioli e Castellacci che sono due firme storiche per quanto riguarda questo genere di opere, ma proprio perché rimarca in modo abbastanza evidente l'importanza dell'oratorio. Dato sì che siamo nuovi nuovi dall'apertura del nuovo oratorio, ci sembrava giusto parlare proprio di questa figura che è alla base di tutti gli oratori italiani. Chiudiamo precisando le date e gli orari e dove si terrà appunto la rappresentazione. Perfetto, per cui nuova sala dell'oratorio di Castigo, sabato 26, domenica 27 e domenica 3 febbraio. Alle 20 e 30 vi aspettiamo numerosi.